Ben trovati al meteo. Il campo di alta pressione che si è insediato sull'Europa ci terrà compagnia per altri giorni ancora caratterizzando il weekend. Il tempo si manterrà stabile anche se non sempre soleggiato. Anticipo di primavera con temperature piuttosto miti. Nel dettaglio sul Veneto la giornata di sabato 20 febbraio sarà all'insegna come vediamo di un cielo grigio. In montagna si affermano invece ampi spazi di sereno che invece sulle zone pianeggianti saranno contrastati da prima da nubi basse e poi da nebbie, specie durante le ore più fredde della giornata. La colonina di Mercurio si porterà su valori ben oltre la media stagionale, temperature minime tra 1 e 7 gradi, valori massimi invece tra 11 e 13 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il sole non sarà molto presente quantomeno in pianura, sui rilievi dal pomeriggio invece sarà più soleggiato. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime invece sui 10-11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige dove la nostra grafica ci mostra una situazione ben diversa con tanto sole ovunque salvo per locali foschie al mattino. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.